I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro con il supporto dei colleghi del nucleo cinofini di Palermo hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne palmese che al momento si trovava agli arresti domiciliari con il permesso di uscire solo per recarsi sul luogo di lavoro. I militari nell'ambito di una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo a Palma di Montechiaro hanno rinvenuto grazie anche al fiuto del cane Aaron occultati all'interno di un cavo ricavato nel cassetto di un mobile della sala da pranzo un barattolo di plastica contenente 5 grammi di cocaina suddivisi in 12 involucri di gelofan pronti per lo spaccio. Quando trovato è stato immediatamente posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato l'arrestato così come disposto dalla procura della Repubblica di Agrigento è stato tradotto nuovamente presso la propria dimora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida nel corso del quale questo pomeriggio l'arresto veniva convalidato e disposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il successivo giudizio di merito servirà a vagliare la responsabilità del soggetto la quale non è definitivamente accertata.